Ciao, se devi vendere un immobile a zona Lago di Garda o sulla nostra riviera romagnola contattaci, contatta Victoria Group perché innanzitutto sarà un'occasione per conoscersi ma soprattutto condivideremo con te quello che è il nostro piano strategico di vendita magari ti chiederai ma come fa un'agenzia di Formigini di Modena riuscire a rendere un appartamento ad Esenzano piuttosto che a Gabice sarà l'occasione per condividere con te quelli che sono stati gli step che ci hanno portato a ottenere questi risultati sono già risultati che abbiamo già ottenuto ti faremo vedere le case history di appartamenti veramente già venduti al miglior prezzo nel minor tempo quindi se sei residente tra Reggio, Modena, Bologna e devi vendere un appartamento in una località turistica contatta Victoria Group, ricordati Victoria Group il tuo partner immobiliare ciao